Allora, mister Mariotti, 20 minuti di sofferenza e poi solo Arezzo. Sì, questa è la dimostrazione che nel calcio l'approccio è importante. La squadra dopo l'errore che ha fatto Junior, dopo un minuto, un minuto e mezzo, è stato bravo Edoardo, la squadra era un po' in paura. Un po' in paura per i primi 15-20 minuti. Poi dopo penso che non c'è stata più partita perché si è sciolta, secondo tempo specialmente abbiamo tirato 13 volte in porta. Abbiamo giocato una porta. Sì, questo, dobbiamo essere un po' più precisi, però dopo abbiamo portato via il risultato che è un altro passettino, come dicevo io, per curare. Per curare quello che è un po' di sofferenza che abbiamo. Tante volte andiamo troppo spesso in paura. Non abbiamo il coraggio di fare alcune giocate facili, insomma. È tutto questo. Però a secondo tempo poi la squadra si è sciolta e mi è piaciuta. Comunque la squadra sta crescendo, anche dal punto di vista psicologico, perché forse in altre circostanze errori come quelli che ci sono stati nel primo quarto d'ora ci avrebbero condizionato di più. Invece la squadra ha reagito poi. Sì, è una squadra, come ho detto io, un po' più operaia. L'ho trovato, però di grandi ragazzi. Nel senso che si applicano. Sappiamo, insomma, tutte le diatribe che ci girano intorno. Però poi quando vanno in campo, da quando sono tornato io, mi sembra che danno tutto quello che hanno. Sbagliamo ancora parecchio. Ancora dobbiamo migliorare. Sono rimaste 13 partite. È quello che ho sempre detto. Dobbiamo cercare di finire bene e fare bene il nostro mestiere fino all'ultimo. Così nessuno ci possa dire che l'impegno non c'è stato. Noi dovremmo sempre rispettare la maglia che indossiamo, il lavoro che facciamo, perché è un lavoro, e lo sport è che amiamo. Lo rispettiamo con l'impegno. Io sono convinto che questi ragazzi da qua alla fine daranno belle soddisfazioni. Oggi esperimento, tra virgolette, Lazzarini come esterno o basso, mi sembra superato a pieni voti. Sì, perché poi l'ho provato martedì. Però io sapevo che loro ci avrebbero aspettato, non ci sarebbero venuti a prendere altri. Oggi ho avuto un bel da fare con Tortolano, che è un buon giocatore, un ottimo giocatore per la categoria. Però si è disimpegnato bene, è stato bravo anche nelle letture delle palle sopra, che è la cosa più difficile per un difensore. E ancora ha spinto poco, ha spinto poco perché è un giocatore che ha anche gamba. Però poi dall'altra parte abbiamo Ruggeri che spinge sempre, e perciò... Bisogna tenere l'equilibrio. È stato un buon esperimento. Buon esperimento. Bene, quindi a questo punto abbiamo consolidato il quarto posto, perché il Trestri ne ha pareggiato, quindi abbiamo lucrato due punti. Ci si avvicina alla sfida col Gavorrano. Sarà una partita importante, ma in mezzo c'è Foligno. Vediamo di sfatare questa maledizione della trasferta. Sì, ecco, questo io un po' dirò da martedì ai ragazzi. Che sabato giochiamo a Foligno, è tanto che non vinciamo fuori casa. Andiamo tranquilli, sereni. Sappiamo che ci aspetterà una partita difficilissima, perché il giorno di giorno e le squadre che si devono salvare faranno tutto il possibile. Il Foligno oggi ha perso, quindi. Ha perso, esatto. Però noi dobbiamo essere tranquilli, avere grande voglia di andare a giocare questa partita. E poi facciamo prima questa domenica, poi il Follonia, che abbiamo brutti ricordi io personalmente di quella giornata, insomma, poi in fausta. Però ancora ci vuole tempo e c'è una partita. Facciamo una cosa alla volta. Grazie, mister. Grazie a voi.